Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Zip65 e questo è il secondo episodio di Snake Pass Allora, dopo aver visto nello scorso episodio il primo livello, Sentier per il Paradiso oggi andremo a fare il secondo livello, Scalata nel Cortile Non preoccuparti, Noodle non affoga, ok, ottimo, quindi ci sono anche livelli nell'acqua Chi erano un tempo gli abitanti di Havel Thor? Non lo so, lo scopriremo magari Boh, vediamo andando avanti C'è qualcosa che non va qui Dobbiamo controllare che il portale sia a posto Andiamo, ok, andiamo Allora, vediamo un po', intanto se troviamo qualcosa qua in giro Allora, qui non si capisce già più niente questa telecamera Ok No, non c'è niente Allora Qui c'è già una Sfera blu La prendiamo E procediamo per di qui, di lì Non è che bisogna andare Di lì c'è la freccia, però qua C'è roba da raccogliere E io Proverei a salire qua sopra Vediamo se riusciamo a farci tanto male No, ok, siamo riusciti a prendere anche quella sfera lì E lì sopra c'è un'altra Qui credo che sia Molto Difficile la salita Ok Un pezzo ce l'abbiamo fatta Due Vai, 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 vai Vai Sì, sì, sì Perfetto, ok, l'abbiamo presa Perfetto, qua dietro cosa c'è? Ok, direi niente Andiamo a vedere anche dall'altra parte Già che siamo qua sopra Prima di ricadere Non riuscire mai più a salire qua sopra Andiamo a vedere anche qua dietro Se hanno nascosto Tipo qualche moneta Direi di no Lì sopra neanche No, direi che lì sopra proprio non si riesce a salire No, direi di no Ok Scendiamo E proseguiamo Da Questa parte qui cosa c'è? Qui dietro ci sarà qualcosa? No Sembra che non ci sia niente neanche di qua Almeno Io non vedo niente Ok, allora Io direi di salire qua sopra A quanto pare dobbiamo dirigerci qua su Attorgigliati al bambù per salire in alto Facile parlare per te che hai le ali Allora Vediamo un po' Ce la faremo Ok, perfetto 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 La sfera La sfera Ok Buttiamoci prima di cadere del tutto Ok Procediamo avanti E qui E qui la vedo dura per venire quella sfera che c'è lì sopra Vediamo Di trovare un sistema di salire senza Uccidere il nostro serpente Noodle Perfetto Ok Non so come ho fatto ma ce l'ho fatta Ok, questo dovrebbe essere un gioco da ragazzi Prendola Confronto all'altra E andiamo avanti Qui c'è qualcosa? No Hanno fatto questo spiaggia con questa bella faccia qui Per niente Ok, qua intanto c'è una sfera blu che ci era sfuggita Arrivando da quella parte di là E l'abbiamo vista Adesso Ok E vediamo un po' Dobbiamo andare di qui Non attorcigliarti lì Ma andare giù di qui Ok E lì dietro c'è un'altra sfera blu Proprio le Si nascondono Le hanno nascoste proprio Nei posti più Impensabili Qua ti devi girare proprio Da qualsiasi parte Per Vedere di trovare Ste sfere Quindi già sono nascoste le sfere Figuriamoci le monete Qua dietro c'è un'altra Ok E lì è da dove siamo arrivati Dobbiamo andare giù di qua Se ce la facciamo A vedere dove dobbiamo andare Oh no In questo portale mancano tutte le pietre energetiche Perfetto Già è difficile trovarne una Dobbiamo trovarle tutte e tre Dobbiamo trovare tutte e tre le pietre energetiche E riportarle al portale Oh intanto lì abbiamo visto una moneta Eeeh Bello Bello Facile dirlo Adesso vedremo anche di farcela A fare quello che hai chiesto Intanto proveniamo a questa sfera qui Ok E lì sotto c'è un'altra Perfetto Ok Usciamo di qua E vediamo un po' Qui Allora abbiamo letto che nell'acqua non affuoga Quindi nell'acqua ci possiamo entrare tranquillamente Ok Perfetto Ce ne sono altre sfere in giro Se lì c'è un'altra Ok Avanti Dobbiamo passare sotto il ponte E qua sopra c'è qualcosa Intanto non si riesce a girare la telecamera Ok Sì dobbiamo passare sotto il ponte Perché c'è un'altra sfera sotto il ponte Però mi sa che sotto non ci Sì ci passiamo Ok E siamo fuori dall'altra parte Ok Come se fossimo passati da Da sopra il ponte Allora vediamo un po' qui Cosa c'è da fare Lì c'è il ponte da attraversare Che porta Lì Intanto dobbiamo andare Andiamo anche Per di qua No Usa ZL per tenerti forte E attorcigliarti così Ok proviamo Ah questa sì Questa sì che è una funzione Però qui Allora Adesso sono già troppi tasti da schiacciare Qui Ok Sì Si fanno le cose molto più facilmente Non potevi dirlo prima Questa sembrano delle pietre energetiche mancanti La rimetto a posto Ok Però potevi anche dirlo prima Che si poteva schiacciare ZL per Per tenersi aggrappati più forte Facevano meno fatica Anche Anche nello scorso livello Per esempio Intanto abbiamo trovato una moneta La prima moneta Almeno la prima che abbiamo trovato noi Adesso poi non so se era la prima Effettivamente O se ce ne erano altre Che ci sono sfuggite Cosa molto probabile Ok Procedendo Di qui ci ammazziamo Sì Quindi io direi di tornare indietro E scendere da dove siamo risaliti Facendo Ecco In questo modo qua Ok Perfetto Eh Là dietro c'è Ah no Quello è il portale Quindi non c'è niente Ho visto Sembrava che ci fosse qualcosa Di Da prendere invece Il portale Dove dobbiamo riportare le sfere Le sfere Le pietre energetiche Ah Sfere Pietre energetiche Monete E uno va in confusione Intanto questa si è la torciglia Deve andare dritto Ce la fai andare dritto Ok Ok Un'altra sfera Lì sopra Ecco Quella Usa ZL Per stringere Mentre ti attorcigli Se me l'hai già detto prima Però dovrebbe essere dovuto Dirmelo nel primo livello Almeno Saremmo riusciti A fare qualcosa in più Ecco Adesso Parlando in italiano Siamo riusciti a spiegare Il concetto Allora Sarò io Che non sono abituato Ma la telecamera Faccio fatica A usarla Io Perfetto Vai Vai Sì Ok Adesso Dobbiamo trovare Il sistema Di salire qua sopra Io ho visto Una Moneta qua sopra Ma Non ho idea Di come salirci E attorcigliandoci Da qui Non so se ci arriviamo Allora Proviamo A Vedere Se In questo modo Riusciamo a fare qualcosa Ok Passa sotto Vieni di qua Tirati su Stringi Alzati Vai Vai No 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 Allora Però Il sistema È giusto Quindi Proviamo Di nuovo Ok Passa sotto Vieni di qui Sai Stringi No Dai un altro giro Prima di cadere Stringi Sali Premi y Non so Vuoi che ti dia un passaggio Cos'è Mi porti tu Ah no Tu mi tieni Tieni sulla coda Ah Ok Sì Ma adesso Non mi serve Questa Non mi serve Questa funzione In questo momento Magari più avanti Può essere molto utile Però Grazie Però In questo caso No Anzi In questo caso La reputo quasi inutile Allora Giù No Giù Giù Avanti No Su No Allora Facciamo che taglio E riprendo Quando ce l'ho fatta salire Eh Ok 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 Dopo non so Quanti tentativi Ce l'ho fatta arrivare In cima E prendere la moneta Adesso Ho visto Che Ce n'è Una Qua sotto Che non so Come faremo A prendere Non so se la vedete Ok E lì sotto Allora io direi che Cerchiamo Un checkpoint Che mi sembra Che ce n'è uno Qua dietro In modo che Non devo più Arrampicarmi Per prendere Quella lì sopra Se non ci metto Altri 4 4 anni e mezzo E poi proviamo A prendere Anche quella lì Anche lì Probabilmente Taglierò il video Finché non riuscirò A A sederci sopra Adesso Allora che avevo visto Il checkpoint Non ricordo Dove avevo visto Il checkpoint Forse qua sopra Perfetto Ok Adesso in teoria Dovremmo ricominciare Da qui Se moriamo Perché mi sa Che moriamo Ok Bene Allora Io ci provo E vediamo Se vedo Che muoio Tipo 15 volte Lascio anche stare Se no Allora Se ti allunghi via Ok Adesso il problema È ritornare su Tipo Se noi Alziamo la testa E Veniamo su No Cade 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 No Ok Perfetto Allora ci Riproviamo Un'altra volta Magari Magari senza fare tutte Ste piagolette Che non è che dovresti Essere felice A parte che Non lo sei te Sono io che sono Un po' imbranato In questo gioco Porta pazienza Ma vediamo Vediamo di farcela Senza Allora Proviamo a fare Ok Adesso Facciamo così Perfetto Abbiamo Tribulato Praticamente Per niente O Ci è andata Veramente bene Adesso Allora Io adesso Tornerei al Checkpoint All'altro Dice di andare A zig zag Per andare più veloce Ma non mi sembra Una ferrari Un serpente Mi sembra Un po' Una lumac Allora Dicevo Torniamo al Checkpoint Perché non voglio Rifarlo Quel pezzo lì Nel caso Dovesse Succedere Qualcos'altro E Procediamo Per di qui Di sopra C'è l'ultima Pietra Pietra Quella dei portali Si C'è C'è Monete Sfere Pietre C'è di tutto In sto gioco Ok Perfetto Abbiamo preso Ad esempio Una sfera Adesso Adesso Dobbiamo andare Su di qui Che c'è Un'altra Sfera Ok Poi Su Su Avanti Avanti No 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 Di qui Su Su Niente da fare Dobbiamo Ricominciare Ok Ok Vai 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 Giù Ok Attorcigliati di Perfetto Lì sopra Non sembra Ci sia Niente Vai 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 Sì Ok No Lì sopra Non c'è niente Almeno Non sembra Là C'è Una Sfera Che Non avevo Visto Io Andrei Anche A provare A prenderla Per cui Non so Se riusciamo A prenderla Su Di qui Ce la faremo A farci malissimo Sì Sì Nananananananana Qui c'è andata Non bene Di più Mamma mia Qua l'ho vista Veramente brutta Veramente brutta Ma noi Non demordiamo E riproviamo A salire Allora No Sono troppi Troppi tasti Da schiacciare Non mi ricordo mai Quale bisogna Schiacciare Per fare Una determinata Cosa E quale Per fare L'altra Allora Adesso qui No Devi andare Su Non giù Questo l'ho schiacciato Giusto E se te Che non hai preso Il comando Avanti Ok Adesso Ti attorcigli Qui Ti tieni stretto Fermoli Fermoli Adesso Ti reattorcigli Vai 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 Sì 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 Ok Perfetto Non cadiamo Da qua Manca Una sfera Blu Che Non ho Visto Di sopra Ci siamo andati Di sopra C'è qualcosa Sì C'è una moneta Ok Allora Io andrei Lì sopra Lì intanto C'è l'altra Sfera Blu L'ultima Sfera Blu Lì Dritto A me E Là sopra C'è una moneta Ok Quindi io Cercherei È quella La strada Per arrampicarsi Perfetto Ok Ma che vada Velocizzo il video E ci vediamo In cima Ok Siamo arrivati In cima Alla A Quella Quella Scalinata Ecco Chiamiamola Non so come chiamarla E Dobbiamo riuscire A prendere Ok Ce l'ho fatta fare Quella scalinata Non riesco a prendere Sta sfera Che è Forse una Delle più facili Ok Ce l'abbiamo fatta Adesso dobbiamo Arrampicarci Lì sopra E prendere Quella moneta Lì in cima No Non cadere Non andare giù Non andare giù Non osare Non osare cadere Non osare cadere Non osare cadere No 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 Vai 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 Mamma mia Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì E la quarta moneta L'abbiamo presa Ok Adesso Dobbiamo Andare A prendere A prendere Quella pietra Lì in fondo E poi Abbiamo Praticamente Finito Se noi ci buttiamo giù di qui Ho idea che moriamo male Quindi Direi di scendere da dove siamo risaliti Ok Butta che banzai Hai picchiato Una facciata Paurosa Non ti invidio Sarei Senza denti Penso Ma anche un sorpente Senza denti Forse è meglio Almeno Non avvelena Ok Io direi di salire di sopra Anzi Direi prima No Vabbè Saliamo di sopra Andando qui È facile Questo pezzo Ok Perfetto Di dietro Intanto c'è una moneta L'ultima Di questo livello Penso Perfetto Allora Però prima di andare a prenderla Io andrei Al check point Evitando di rifare Tutto nel caso Dovessimo cadere di sotto Cosa molto probabile In quella zona Adesso Torniamo indietro Ci rivediamo là Perfetto Siamo tornati qua sopra Adesso vedremo Quante volte moreremo Per prendere quella moneta Là in fondo Allora Cominciamo Secondo me Se cominci Andare sotto E poi Venire su Da là Di là È Più Facile No 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 Non cadere Non cadere E cade Ok Riproviamo Ok Siamo ritornati qui Ma Secondo me Se proviamo Tanto morire Per morire Proviamo a fare Una cosa così Ok Adesso il problema È tornare Yes La moneta L'abbiamo presa Vai Vai Grandissimo Ce l'abbiamo fatta Ok Perfetto Adesso vediamo di non morire qua Ok Direi di andare A riportare le pietre Nel portale Una Due E tre Perfetto E noi Adesso Andiamo dentro qui E anche a questo livello È finito Ok Scalata nel cortile Completata Abbiamo preso Tutto Ce l'abbiamo fatta Per venire anche Le monete Ok Perfetto Io direi che Per questo Episodio Ci possiamo fermare qui Vi ringrazio per la visione Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace E vi invito A iscrivervi al mio canale Per Seguire questa serie E altre serie Che ho intenzione Di portare più avanti Perfetto E ci vediamo alla prossima Ciao